Ciao a tutti gamer, siamo oggi con il gioco Assassin's Creed Valhalla per vedere come ottenere il trofeo si vola per ottenere il trofeo si vola bisogna farsi scagliare per 150 metri da un distruttore o da un uscario per prendere questo trofeo bisogna andare nelle Ledecestreshire in questo posto bisogna salire sopra a questa piattaforma salire prendi la scala ok attaccheranno a vista qui facciamo scendere la scala ok qui ci sono due nemici in teoria prima ne ho ucciso uno quindi adesso ce n'è uno solo che sarebbe il Golia dai sono qua ok ha diversi attacchi in realtà è uno solo quello che ci serve che non è questo e ci ha fatto capire bravissimo ah dai tira di su ok quindi risaliamo un'altra volta giustamente mi ha fatto solo un attacco che non potevo parare ok ok saliamo sulla seconda scala e siamo di nuovo qui signor Golia che vogliamo fare? ok 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 oh cadendo qui dal dirupo quindi si prende il trofeo in questo momento se vi è piaciuto questo video mi invito a cliccare sul mi piace e da iscrivervi al canale alla prossima ciao 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 c'è boccato